Chi sei? Ciao, sono Andrea Bellacicco, ho 25 anni, è stupido dire che sono un attore, sì perché sono qui. E basta, dici quando hai deciso di fare l'attore e perché. Ho deciso di fare l'attore quando i miei genitori mi hanno trascinato al teatro e mi hanno strappato la playstation. Avevo 8-9 anni ed ero un po' più timido. Ho deciso di fare il teatro e mi sono innamorato del teatro quando ho visto questi straordinari attori che erano sul palco davanti a tantissima gente senza riconosci. E allora ho detto, anche io voglio provare. E lì ho iniziato la tragedia e guardo, ho detto che ho messo. Di cienpai, ok, hai un rito scaramantico prima di andare in scena? Assolutamente no, non ce l'ho, no. Non dormo la notte prima, questo è il mio rito scaramantico, quindi quando ho gli occhiai vuol dire che ho lavorato bene. Il ruolo dei tuoi sani? Assolutamente mercolizio, sì mercolizio è il ruolo che mi sarebbe di più fare, non l'ho mai fatto, probabilmente mai lo farò, ma anche. Fai gli auguri a Istrio che compie 25 anni. Tanti auguri a Istrio che compie 25 anni, come me, io ho 25 anni quindi siamo andati insieme. Bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.